Globalizzazione economica, aspetti positivi e negativi. La globalizzazione economica, caratterizzata dall'integrazione dei mercati internazionali e dall'aumento dei flussi di beni, servizi e capitali tra paesi, presenta sia aspetti positivi che negativi. Tra gli aspetti positivi, la globalizzazione ha favorito una crescita economica significativa in molti paesi, particolarmente in quelli in via di sviluppo. Ha stimolato l'innovazione e il progresso tecnologico attraverso una maggiore concorrenza e scambio di idee. L'accesso a mercati più ampi ha permesso alle aziende di sfruttare economie di scala, riducendo i costi di produzione e offrendo ai consumatori una gamma più ampia di prodotti a prezzi più accessibili. La globalizzazione ha anche promosso la specializzazione internazionale consentendo ai paesi di concentrarsi sulle attività in cui hanno un vantaggio comparativo. Questo ha portato a una maggiore efficienza nell'allocazione delle risorse a livello globale. Inoltre ha creato opportunità di lavoro in nuovi settori e ha facilitato il trasferimento di conoscenze e competenze tra paesi. Tuttavia la globalizzazione economica presenta anche aspetti negativi significativi. Uno dei più critici è l'aumento della disuguaglianza sia tra paesi che all'interno di essi. Mentre alcune nazioni e gruppi ne hanno beneficiato enormemente, altri sono rimasti indietro creando tensioni sociali e politiche. La competizione globale ha portato in alcuni casi a una corsa al ribasso in termini di standard lavorativi e ambientali con aziende che cercano di ridurre i costi spostando la produzione in paesi con regolamentazioni meno stringenti. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo allo sfruttamento del lavoro e al degrado ambientale. La globalizzazione ha anche reso le economie nazionali più vulnerabili agli shock esterni come dimostrato durante le crisi finanziarie e globali. La rapida diffusione di crisi economiche da un paese all'altro ha evidenziato i rischi dell'interdipendenza economica. Inoltre la globalizzazione ha contribuito alla perdita di posti di lavoro in alcuni settori tradizionali nei paesi sviluppati causando dislocamenti economici e sociali. Ha anche sollevato preoccupazioni sulla sovranità economica nazionale con alcuni critici che sostengono che il potere delle corporazioni multinazionali e delle istituzioni finanziarie e internazionali possa compromettere l'autonomia dei governi nazionali. Infine la globalizzazione economica ha portato a una certa omogeneizzazione culturale con il rischio di erosione delle identità e delle pratiche economiche locali. Grazie a tutti.